Gentili telespettatori, buona giornata. Un altro miracolo di Virginia Raggi. Dopo che ieri aveva fatto togliere la spazzatura dove giravano una serie tv, oggi la spazzatura sparisce da un'altra strada. Viene ripulita dalla spazzatura la strada di casa di Raffaella Carrà e il Codacons va contro Virginia Raggi. Il corteo organizzato per la scomparsa di Raffaella Carrà ha fatto storcere il naso al Codacons che ha chiesto chiarimenti sia al Comune di Roma che a Lama. La regina delle televisioni italiane, venuta a mancare all'età di 78 anni a causa di una malattia, ha fatto l'ultimo regalo ai cittadini, riuscendo dove tutti finora avevano fallito. Far svuotare i cassonetti dei rifiuti e ripulire le strade dalle tonnellate di spazzatura che in questi giorni hanno invaso la città. Peccato, dice il Codacons, che la pulizia straordinaria sembrava aver riguardato solo la zona dove risiedeva il noto personaggio televisivo, mentre il resto della capitale appare ancora in piena emergenza rifiuti. L'associazione ha fatto sapere di aver eseguito un monitoraggio nella giornata di ieri, dal quale è emerso che tutta l'area limitrofa all'abitazione della Carrà fosse incredibilmente pulita, con i cassonetti della spazzatura praticamente vuoti e nessun rifiuto a terra. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.